seconda giornata consecutiva senza contagi da coronavirus in Basilicata tutti negativi 525 test processati nella giornata di ieri 12 guariti e sono risultati tutti negativi anche i tamponi effettuati sino ad ora nell'ambito dello screening avviato a Moliternax zona rossa il ruolo del volontariato a supporto del sistema sanitario in questa fase di emergenza ma non senza rischi e difficoltà come testimoniato dal responsabile nazionale protezione civile dell'AMPAS Carmine Lizza Agroalimentare Lucano al collasso per la carenza di mano d'opera a rischio alle campagne di raccolta delle primizie un aiuto arriva dagli sportelli online attivati da C agricoltori e da Coldiretti Verso la fase 2 ma con l'avvertenza trasporti aperta è sempre più complessa con a rischio la sicurezza dei bus specie per il servizio che vede coinvolti i lavoratori delle aree industriali lucane Con la chiusura delle scuole e l'avvio dell'attività didattica a distanza a rimanere esclusi sono stati soprattutto i ragazzi disabili per i quali non sempre è stato previsto un percorso alternativo all'assistenza svolta in classe la denuncia della sezione di potenza dell'associazione persone down Buon pomeriggio ai nostri telespettatori ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione regionale Lo abbiamo sentito dai titoli si arresta il contagio in Basilicata secondo giorno consecutivo senza nuovi casi positivi a fronte di ben 525 test che sono stati processati A Moliterno ex zona rossa sono risultati inoltre tutti negativi test sinora processati nell'ambito della campagna di screening su mille cittadini Facciamo il punto con Michelangelo Russo Seconda giornata di fila senza nuove positività e a fronte di un numero di tamponi processati superiore rispetto a ieri 525 test tutti negativi e nel conteggio rientrano anche alcuni esami effettuati sui familiari del cittadino di Policoro Prima dimesso dal Madonna delle Grazie è poi nuovamente trovato positivo Contagio che inizialmente si sarebbe consumato a tricarico presso il centro Don Gnocchi 12 inoltre le persone guarite Con questo aggiornamento i contagi confermati in tutta la regione scendono a 205 Sono 136 le persone guarite fino ad oggi Ai 205 positivi vanno aggiunti 27 lucani deceduti di cui 25 morti in Basilicata Sempre 8 i pazienti diagnosticati in altre regioni residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare 63 i ricoverati, 7 nelle due terapie intensive I lucani in isolamento domiciliare sono invece 142 Clima sereno anche a Moliterno dove lo screening epidemiologico realizzato nei giorni scorsi su un migliaio di cittadini Non ha ancora riscontrato contagi In tutto sono 760 i tamponi esaminati dai medici dell'ASP che hanno dato esito negativo I risultati degli ultimi 240 saranno forniti nelle prossime ore Per quanto riguarda invece gli esiti dei test sierologici Il quadro sarà definito non prima del prossimo weekend A breve la formula tamponi a tappeto dovrebbe essere replicata anche a Tricarico E in un secondo momento a Irsina e Grassano Tutte ormai ex zone rosse Il sistema sanitario nazionale è anche quello locale Ha contato e può contare da sempre su un supporto fondamentale Quello del volontariato E anche in questa fase di emergenza migliaia di volontari hanno prestato servizio tra mille pericoli Ora devono però affrontare anche il rientro al proprio lavoro Non senza difficoltà Ce ne parla Rocco Romanelli L'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze è sempre in prima linea durante le emergenze Anche nel caso del coronavirus ha sopportato il sistema sanitario nazionale sin dalla prima ora Quando fu chiamata a controllare gli ingressi negli aeroporti Misurando la temperatura dei passeggeri in arrivo in Italia Sono passati oltre due mesi da quei primi giorni E l'attività dei volontari anche nella nostra regione è stata preziosa Qual è la situazione attuale? Lo abbiamo chiesto al responsabile nazionale protezione civile dell'AMPA Scarmine Lizza La situazione è ancora purtroppo di un massimo coinvolgimento della nostra struttura Non soltanto sui servizi diciamo classici quelli dell'emergenza urgenza tipo del 118 Siamo presenti in tutte le regioni d'Italia Ma anche e soprattutto attraverso la rete dei servizi sociali La situazione dei contagi in Basilicata è stata contenuta rispetto alle altre regioni Fortuna o la macchina organizzativa preposta ha funzionato? Guardando i numeri facendo un'analisi della distribuzione dei positivi Diciamo dei contagiati si capisce bene che la situazione è evidenziata dai tamponi E' sottodimensionata rispetto a quella che è la realtà E lo dico con cognizione di causa Sono stati fatti pochi tamponi nei momenti opportuni Un pochino questa è una situazione generalizzata un po' in tutta Italia Ma in Basilicata per fortuna diciamo al di là anche dei potenziali numeri Abbiamo avuto una situazione tutto sommato controllabile e controllata Nonostante il grande impegno profuso dai volontari Si è però creata negli ultimi giorni una spiacevole situazione Tra i datori di lavoro e i volontari che prestano servizio Abbiamo un problema molto grosso Che è quello che i volontari devono fare 14 giorni di quarantena Prima di poter rientrare al lavoro C'è una circolare del ministero del lavoro Che ci mette in una situazione molto molto particolare Cioè i volontari praticamente avendo avuto contatto Anche se protetti con persone potenzialmente infette O con persone diciamo con malattia Non possono rientrare nei posti di lavoro Su questo stiamo facendo una battaglia importante Abbiamo coinvolto tutte le istituzioni Dal ministro della salute al capo della protezione civile Per rivedere questa norma Perché questo significa che i volontari vengono discriminati Non possono rientrare a lavorare Ma volendo guardare più in profondità Questa è una cosa molto molto pericolosa Perché significa che le persone che rientrano a lavorare Non possono far parte delle associazioni di volontariato E sappiamo bene che il sistema sanitario di emergenza urgenza E non solo Si regge buona parte sull'utilizzo dei volontari Sull'impiego dei volontari Abbiamo avuto già qualche caso di dimissioni forzate di volontari Perché altrimenti alcune aziende fanno dichiarare Che non fanno parte di nessuna associazione Che fa emergenza urgenza sanitaria E questo chiaramente impoverisce il sistema Ricordiamo che il volontariato in Italia Non è un obbligo Ma è un diritto dei cittadini E quindi bisogna stare molto molto attenti Da questo punto di vista 4.000 mascherine chirurgiche certificate Sono state donate alla questura di potenza Per gli agenti impegnati nei diversi servizi Dalla sezione del capologo lucano Dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Lo ha reso noto il presidente dell'associazione Nicola Tufanisco Le mascherine 5.000 in totale Sono giunte all'AMPS dalla Total Che aveva ricevuto una richiesta in tal senso Proprio dall'associazione Comparto dell'agroalimentare Al collasso A causa della carenza di mano d'opera A rischio le campagne di raccolta Delle primizie Un aiuto arriva dagli sportelli online Attivati da Cia Agricoltori E da Coldiretti Mara Risola La carenza di mano d'opera agricola In Basilicata si sta gravando Specie nel Metapontino E' una delle ripercussioni del coronavirus Attualmente in quella zona Sono impiegate circa 6.000 persone Per la raccolta delle fragole A fronte delle oltre 10.000 Dello scorso anno La preoccupazione oggi Per l'imminente campagna di albicocche Pesche e nettarine Forti problemi poi Si potrebbero avere tra circa una settimana Quando si inizierà anche con le operazioni Di diradamento per le coltivazioni scoperte E con gli interventi sull'uva da tavola In Basilicata negli anni 2018-2019 Sono state denunciate quasi 5,5 milioni di giornate Di lavoro in agricoltura Le aziende assuntrici di mano d'opera Sono circa 3.600 Mentre sono oltre 40.000 Lavoratori che operano in agricoltura Nella nostra regione A cui bisogna aggiungere oltre 10.000 unità Dell'indotto dell'agroalimentare I livelli occupazionali nel settore primario In Basilicata percentualmente Si attestano oltre il doppio Della media nazionale Ciò testimonianza dell'importanza Del comparto primario nell'economia lucana Un esercito di persone Di professionalità Che contribuiscono a generare Il nostro agroalimentare di qualità Per far incontrare domande e offerte Per affrontare il problema Della mancanza di mano d'opera Nelle campagne Ci agricoltori e col diretti Basilicata Hanno attivato gli sportelli online Rispettivamente Lavora con agricoltori italiani .cia.it Per la CIA E Job in Country Raggiungibile sul sito Coldiretti.it Per allineare domande e offerta di lavoro E facilitare l'incontro Tra aziende agricole E lavoratori E ora ci occupiamo Di trasporti Perché è sempre più Scarica Barile Tra regione, provincia E Cotrab Sulla sicurezza Nei bus Per quanto attiene I lavoratori Che usufruiscono Del servizio di trasporto Verso le aree industriali Lucane E la fase 2 È alle porte Sentiamo cosa è accaduto Nel servizio Di Alessandro Panuccio Un via vai di una trentina di pullman In fila indiana Sulla potenza Melfi Quelli delle 10 aziende Che provvedono A collegare i paesi lucani Con l'area industriale Di San Nicola Di Melfi L'immagine Si è ripetuta Tre volte Corrispondenti Ai turni Da 250 lavoratori Della FCA Che hanno il compito Di far riprendere Sia pure a ritmo lento La produzione Delle nuove vetture Garantendo La dovuta sicurezza E fino al 4 maggio Nessuno è in grado Di fornire elementi certi Su quante corse Funzioneranno E quanti lavoratori Potranno salire Su ogni mezzo Il gioco Dello scaricabarile Tra enti Rischia di trasformarsi In gioco al massacro La regione Non dialoga Con le province Il consorzio Cotra Ha balzato un muro Il sindacato Non è unitario Insomma Un caos totale In un mare di mail Tra gli attori coinvolti Il consorzio Non riconosce Come interlocutore La regione Le commesse Le riceve dalla provincia Che ha chiaro Il quadro della situazione Allo stato attuale La regione Pur pagando Non ha un quadro Informativo chiaro Circa i servizi Resi Con particolare riferimento Anche a quelli Esercitati Verso l'area industriale Di San Nicola di Melfi Dal prossimo 4 maggio Deve però garantire Il collegamento Con il polo industriale Nel rispetto Delle misure Di distanziamento Per il contenimento Della diffusione Del virus Covid-19 Per il Cotrab Sono dati Trasmesse alla provincia Che però replica Di aver ricevuto I documenti In forma confusionaria Rendendogli il lavoro Tutt'altro che agevole La mara conclusione È che ad oggi Nessuna azienda Sa quanti passeggeri Può trasportare Su un bus Da 12 metri Con 50 posti a sedere Ne conosce La disposizione Dei viaggiatori Sui mezzi O come si pagano I biglietti Visto che Alle autisti È stato proibito Di avere contatti Con l'utenza Confusione Approssimazione In una fase 2 Dei trasporti Che assomiglia Tatto A una fase 0 E in replica Il consorzio Cotrab In una nota diffusa Poco fa Precisa Che le ordinanze Emesse dal presidente Della regione Vito Bardi Sono state attuate Nei modi E termini Indicati Da queste Per quanto attiene La cosiddetta fase 2 Dice Cotrab Consigliamo Alla regione Di predisporre Atti che responsabilizzino Gli enti affidanti E non i gestori Dei servizi Che dovranno Esclusivamente Attuare Quanto ordinato Nel rispetto Dei vari DPCM Ordinanze Protocolli Ed indirizzi Sinqui attuati Inoltre Precisa Il consorzio Per i dati Di traffico Inerente La fase 1 Si conferma Che gli indici Di frequenza Sono prossimi Allo 0 Inoltre Qualora per la fase 2 Vi fossero nuove Diverse esigenze Di organizzazione Dei servizi Rispetto a quanto Previsto Dal presidente Bardi E' auspicabile Portarle a conoscenza Del consorzio Con ragionevole Anticipo Onde poter Rivedere i turni Di lavoro Senza pregiudicare La sicurezza sanitaria Delle risorse umane Dei nostri dipendenti In uno Alla disponibilità Del parco mezzi E ora La linea Va alla regia Per una breve Pausa pubblicitaria La moda Lo stile E il buon gusto Sono un modo Per prenderci cura Di noi stessi Ora Per volerci Davvero bene Dobbiamo rimanere A casa Rimaniamo a casa Redford Eccoci rientrati in studio Riprendiamo il nostro TG Occupandoci di scuola Con la chiusura Degli istituti E l'avvio Dell'attività didattica A distanza A rimanere esclusi Sono stati soprattutto I ragazzi disabili Per i quali Non sempre E' stato previsto Un percorso alternativo All'assistenza Che si era svolta In classe La denuncia E' della sezione E di potenza Dell'associazione Persone Down Isabella D'Andrea Nelle incertezze Legate alla fase 2 Una cosa è chiara Le scuole Non riapriranno Dunque Gli istituti Di ogni ordine Grado Dovranno continuare La didattica Attraverso le video lezioni E le verifiche a distanza Un programma Però poco includente Come già emerso E ampiamente discusso Specie Se si vanno a considerare Le famiglie In cui questo genere Di alternativa Alla presenza in classe Non risulta applicabile Anche perché Sprovvisti Di supporti tecnici E non solo A rimanere esclusi Sono soprattutto I ragazzi disabili Per i quali Non è stato previsto Alcun programma Di supporto A garanzia Della continuità Del percorso Intrapreso Fino alla chiusura Delle scuole Per l'emergenza sanitaria E a lanciare l'allarme È la sezione di potenza Dell'associazione italiana Persone Down In una nota La presidente Carmela De Vivo Contesta la decisione Del comune di potenza Di interrompere Nelle scuole primarie Secondarie Di primo grado Il lavoro Degli assistenti Alle autonomie E dalla comunicazione Che avrebbe dovuto Supportare Ed integrare La didattica A distanza Anche Mediante L'uso Di ausili La personalizzazione Dei software Didattici E l'integrazione Con il gruppo Di classe Di fatto Le esigenze Degli alunni Con disabilità E in particolare Quelli con disabilità Intellettiva Sono state Completamente ignorate L'attività Degli assistenti Alla comunicazione Rilevala De Vivo Non è solo Quella di sostegno Alla didattica Ma è anche Soprattutto Un'attività Incentrata Sul favorire L'integrazione E la relazione Mediando con la famiglia La scuola E i compagni Nella nostra realtà comunale Purtroppo Le famiglie Sono state Lasciate sole Denuncia La presidente Dell'associazione Persone Down A dover garantire Attività di studio Di sostegno Di tempo libero In una situazione Di limitata mobilità Di qui La richiesta Al comune Di risposte adeguate Al problema sollevato A cominciare Dal ripristino Fin da subito Del servizio interrotto E una risposta In tal senso Giunge invece Dal comune di Matera Su sollecitazione Dell'assessore All'istruzione E alle politiche sociali Marilena Antonicelli L'amministrazione Ha interessato Tutti i gestori Dei servizi Con prestazioni Socioeducative E assistenziali Di rimodulare La propria offerta Attraverso Una coprogettazione E riorganizzarla In forme individuali Domiciliari O a distanza E successivamente Regolamentarla All'esito Di una consultazione Con le organizzazioni Sindacali Adottando Protocolli Che definiscano Tutte le misure Necessarie Per assicurare La massima tutela Della salute Dei lavoratori E degli utenti Nella fase 2 Dice Antonicelli Consideriamo Che i diritti Siano di tutti Bambini e disabili E vadano tutelati Il comune Farà la sua parte Il dibattito Relativo alla fase 2 Non tiene conto Delle esigenze Dei bambini E degli adolescenti Che vivono Una fase di crescita E che soffrono In questo momento Di forzato isolamento Provocando una rabbia nascosta Una turbolenza Che si imprimerà Nella loro crescita personale Gli scenari Continua L'assessore Antonicelli Diventano drammatici Se pensiamo Alla condizione Delle famiglie vulnerabili Bambini Che non vanno a scuola E di conseguenza Non hanno più La possibilità Di fare un passo adeguato Nei casi più estremi Ma reali Costretti a vivere In contesti familiari Caratterizzati da violenza Genitori con problemi Di depressione Dipendenza Addirittura Problemi di disabilità E altre forme di disagio Portati all'esasperazione In questa fase attuale L'intenzione del Comune È di occuparci Di loro Nella convinzione Che tale prospettiva Potrà coniugare Sicurezza Istruzione E assistenza In modo da essere percepita Dai cittadini E dai fritori Come affermativa Dei loro diritti E restiamo in tema Perché il Movimento 5 Stelle Di Matera Preoccupato Per le conseguenze Sull'apprendimento scolastico Causato Dalla restrizione sanitaria Ha avviato Un sondaggio Rivolto A tutti gli Seconder scolastici Dirigenti scolastici Insegnanti Ma anche ai genitori Per analizzare Con dati alla mano Il fenomeno Della dispersione scolastica I dati raccolti E poi condivisi Costituiranno Una base di analisi Che si ritiene importante Fa sapere Il gruppo Per l'avvio Di un dibattito Di un confronto Con la comunità scolastica E con le famiglie Al fine di individuare Buone pratiche E individuare Invece anche Le criticità Il sondaggio È stato creato Grazie al contributo Di docenti Operatori E professionisti Del settore L'obiettivo generale È quello di poter Garantire a tutti gli studenti Il diritto allo studio Nel modo più efficace Ed efficiente Nel rispetto Di quel principio fondamentale A 5 Stelle Nessuno deve Rimanere indietro Ed ora la cronaca Dalle sbarre Agli arresti domiciliari È polemica Per il via libera La scarcerazione Dei boss In questa fase Di emergenza sanitaria Anche Basentini Nell'occhio del ciclone Sentiamo Luigi Santopietro Boss Boss Sottoposti al regime Del 41 bis Affiliati ai clan Più potenti Di camorra Mafia De casalesi De casalesi Michele Zagaria Decisione presa Nei giorni scorsi Dal tribunale Di sorveglianza Di sassari Le critiche Non hanno però certo Risparmiato il DAP Il dipartimento Dell'amministrazione Penitenziaria Guidato dall'ex procuratore Aggiunto di potenza Francesco Basentini Che nella trasmissione Di Giletti L'arena Ha provato a chiedere Come mai Si è arrivati Ad una simile decisione Ma sia il conduttore Che il PM di Napoli Catello Maresca Hanno avanzato Una serie di critiche All'operato del DAP Alla scarcerazione Di Zagaria Infatti Si è arrivati Dopo che i giudici sardi Hanno attestato L'indisponibilità Delle strutture sanitarie Dell'isola Di poter garantire Al detenuto La prosecuzione Dell'iter diagnostico E terapeutico Di cui ha bisogno A causa Di una grave patologia Basentini Si è limitato A dire Che è in corso Un'attività di riscontro Nel frattempo Però le scarcerazioni Proseguono E toccano Anche la Basilicata E' infatti uscito Dal carcere di Melfi Su decisione Del tribunale Di sorveglianza Di potenza Il 78enne siciliano Pietro Pollichino Condannato In via definitiva A 6 anni E 8 mesi Con l'accusa Di aver fatto parte Del nuovo clan Dei corleonesi Capeggiato Da Rosario Lobue Pollichino Difeso dall'avvocato Giuseppe Colucci E' passato Agli arresti domiciliari Per motivi di salute Anche alla luce Dell'emergenza sanitaria Il DAP E' finito Nell'occhio del ciclone Per via di una circolare Inviata il 21 aprile Ai direttori Degli istituti In cui si raccomandava Di segnalare All'autorità giudiziaria Per via dell'emergenza Covid I detenuti Con patologie Ma anche quelli Ultrasettantenni Non era un ordine Di scarcerazione Ha più volte sottolineato Il ministro Bonafede Di fatto Però dopo quella circolare Sono aumentate Le richieste Di messa ai domiciliari Dei detenuti Over 70 Soprattutto Se affetti Da patologie Dramma della solitudine A San Costantino Albanese Dove è stato necessario L'intervento Dei vigili del fuoco Per consentire L'accesso All'abitazione Di un anziano Che era deceduto La scorsa settimana Lo ricordiamo I caschi rossi Sono riusciti Ad introdursi In tempo In un'abitazione In via Tirreno A Potenza Consentendo L'intervento Del 118 Che ha trasferito Una anziana 84enne In ospedale Fotografi lucani Per scacco matto Al coronavirus È il progetto Sposato Da 60 fotografi Della regione Professionisti Delle immagini Nell'intenzione Di creare Una rete Di solidarietà Per l'acquisto Di dispositivi Di protezione Individuale Da consegnare Al personale sanitario Impegnato Nell'emergenza Covid-19 Alla protezione Civile Della Basilicata I fotografi Hanno deciso Di fare squadra Sulla piattaforma GoFoundme.com Con una donazione Di almeno 50 euro Si potrà scegliere Una foto Che verrà poi Recapitata Direttamente a casa Il ricavato Sarà devoluto Alla raccolta Fondi Della regione Basilicata Scacco matto Al coronavirus Siamo convinti Hanno scritto In una lettera Al presidente Della regione Basilicata Vito Bardi Che in questo momento Ogni professionista Lucano Possa mettere a disposizione Il proprio sapere Le proprie competenze Per aiutare Concretamente Concretamente Il personale sanitario E gli operatori Della protezione civile Dell'ultima notizia Si chiude qui Questa edizione Del nostro telegiornale Grazie per averci seguito Arrivederci Grazie a tutti